La storia è fatta da personaggi, da fatti, da battaglie, da stravolgimenti, la storia a volte è fatta anche da citazioni, sì, da parole che assumono un significato particolare. E allora voglio aprire questo video con una citazione molto, molto particolare. È una citazione di William Shakespeare, dell'Enrico V. Queste parole sono chi oggi sopravvivrà e tornará a casa sano e salvo quando sentirà dominare questo giorno, si alzerà sulla punta dei piedi e gonfierà il torace. Come detto, sono parole dell'Enrico V, di William Shakespeare, ma non vengono pronunciate in un palcoscenico, in un teatro, né durante una rappresentazione, tantomeno durante delle prove teatrali. No signori, queste parole vengono pronunciate in mezzo al mare, da un ufficiale, il maggiore king del secondo battaglione East Yorkshire. Il maggiore sta parlando dei suoi uomini, si trovano su un mezzo da sbarco, tra spruzzi di acqua salmastra, del fumo, della cordite, puzzo di vomito dovuto a chi non regge il mare, e l'inconfondibile odore del sudore, visto a paura. Qui gli uomini, al comando del maggiore king, sanno benissimo che gli aspetta un compito quasi impossibile. Chi sopravvivrà e tornerà a casa sano e salvo? Potrà gonfiare il petto, ma l'importante prima di tutto è sopravvivere. La data? Beh, la data è fondamentale. È il 6 giugno del 1944, sono le 6.30 del mattino, e quel reparto, il battaglione, il secondo battaglione del East Yorkshire, è stipato nei mezzi da sbarco, ed è diretto verso una spiaggia, chiamata in codice SWORD, PADA. È uno degli obiettivi della più grande operazione anfibia che si sia mai vista nella storia di questo pianeta. È il giorno del giudizio, il D-Day, data indimenticabile, data fondamentale per le sorti del secondo conflitto mondiale. 6 giugno 1944, un giorno destinato a cambiare le sorti del conflitto nell'Europa occidentale. Da quattro anni, tutta quella fascia del continente, giù, da Dax, ai conflitti con la Spagna nazionalista, sino ad arrivare ad Amsterdam, e proseguendo verso Kiel, in Germania, e a sud verso Marsiglia, Genova, è sotto il tacco nazista. E lo è ormai da tanti anni. Nella primavera del 1940, Loher, l'esercito tedesco, ha sperato un colpo di scimitarra micidiale per quanto riguarda le difese alleate. Ha travolto il Benelux, che fino a quel momento era neutrale, lo ha occupato nel giro di pochi giorni. Poi è penetrato in Francia, attraverso le foreste dell'Ardenna, ritenute impraticabili per i mezzi corazzati, ma gli alleati in quel caso hanno sbagliato i loro calcoli. Dal giugno del 1940, la Germania nazista controlla la Francia continentale. In alcuni casi, direttamente, come zona occupata. In altri casi, almeno fino alla fine del 1942, attraverso il regime di Vichy, che sotto il maresciallo Pétain prova a reorganizzare uno stato francese, ma quasi alleato dell'asse. Quasi perché non entra in guerra a fianco dell'asse, ma mantiene delle relazioni amichevoli con la Germania. Ma rispetto all'ora, molto è cambiato, moltissimo. Le vittoriosi divisioni panzer, quelle che avevano marciato per il Benelux ed erano entrate facendo irruzione da nord in Francia, sono state sacrificate. Alcune, poche, nella campagna d'Api. La maggior parte ad est, contro l'Unione Sovietica. L'operazione barbarossa e tutto quello che ne è seguì. La grande battaglia di Kursk, la più grande battaglia a carri armati della storia, ha visto spegnersi le gloriosi panzer divisioni a una a una. Hitler ha perso moltissimo nella campagna contro l'Unione Sovietica. Ma la sua cieca, irrazionale fede della vittoria finale lo porta a una sorta di cissità strategica. Non ha capito che, sostanzialmente, la guerra è già perduta. In Italia, tra l'altro, Mussolini è già caduto. È caduto il 25 luglio del 1943, dopo l'Urdine del Giorno Grande, la riunione del Gran Consiglio del Fascismo che ne ha sancito la decadenza da dittatore. Gli alleati stanno risalendo faticosamente la penisola. Prima sono sbarcati in Sicilia, poi a Salerno, a Danzio, faticano, cercano di avanzare. Ma non è semplice. I regimi fascisti, in giro per l'Europa, in Finlandia, in Ungheria, in Romania, in Bulgaria, stanno entrando in crisi, uno dopo l'altro. La Finlandia, che era entrata in guerra a fianco della Germania nazista per prendersi una rivincita nei confronti dell'Unione Sovietica che le aveva attaccata durante la guerra d'inverno tra il 39 e il 40, è costretta alla resa. La Romania, quando vede arrivare i soldati dell'Armata Rossa, subisce un colpo di Stato e cerca disperatamente l'alleanza con i sovietici. Anche in Bulgaria si astisse per lo più alla stessa cosa. E in Ungheria? Beh, in Ungheria, l'arminalio Orti, che reggeva letteralmente il paese dal 1920, il più longevo dittatore d'Europa, è costretto sostanzialmente a passare il potere, stretto tra l'occupazione nazista e la società ungherese che non è po' più del conflitto. Si sta avvicinando quello che Wagner, quel Wagner che tanto piaceva a Hitler, aveva descritto come il Götterdammerung, il crepuscolo degli dèi, il momento della resa dei conti. Hitler, come abbiamo detto, non se ne accorge o non se ne cura, convinto che comunque si possa ancora vincere su tutti i fronti e per irrobustire le difese lungo le coste francesi all'interno di quel vallo atlantico che viene tanto strombazzato dalla propaganda nazista ma che risulta incompleto, non ben presidiato, guarnito in alcuni punti o bisognoso di ulteriori interventi, è stato richiamato un uomo di fiducia, un uomo di cui Hitler si fida ciecamente, il Feldmaresciallo Erwin Rommel. Gli abbiamo dedicato una piccola monografia in più puntate, la ritrovate in questo canale. Ebbene Rommel viene incaricato di supervisionare l'approntamento degli sbarrametti e l'addestramento delle truppe di presidio che devono opporsi a quel tentativo di riconquista dell'Europa a parte degli alleati che si sa arriverà. Gli alleati in realtà hanno già sperimentato tempo addietro la tenuta delle difese costiere tedesche a Dieppe. Non è andata bene per gli alleati. Dovevano prendere il porto, tenerlo per 24 ore e non ci sono riusciti. È stato un massacro. Ma da quell'esperienza negativa gli alleati hanno imparato moltissimo. Rommel stesso si accorge che la situazione la situazione delle difese non è poi così incoraggiante. Gli fa impossibile. È perfettamente conscio della superiore nettamente superiore forza degli alleati. Forza numerica forza qualitativa forza materiale. A complicare poi tutto questo quadro c'è la decisione di Hitler di autorizzare lui in prima persona lo spostamento e l'utilizzo delle riserve tattiche. Non si può ottenere l'afflusso delle riserve senza che Hitler non dia il proprio assenso esplicito. Tra queste riserve un ruolo cruciale lo riveste il secondo SS Panther Corps il corpo d'armata del generale Poundhauser. Questo corpo d'elite viene alloggiato nei pressi del Pade Calais cioè in un punto geograficamente più vicino tra la Francia continentale e l'Inghilterra. Hitler è convinto che gli angloamericani sbarcheranno lì sfruttando il fatto che la manica in quel punto è più ridotta. è un errore è un errore perché gli alleati non vogliono assolutamente ripetere quanto fatto anni prima non vogliono ripercorrere al contrario la rotta di Dunker non vogliono dare nemmeno l'impressione di voler commettere il più tragico degli errori quello di compiere una scelta prevedibile. Anzi gli alleati avviano una poderosa campagna di disinformazione per sviare il servizio di informazioni tedesco che comunque già si dibatte nella lotta intestina tra l'Avver dell'ammiraglio Canaris e il Sikereindist soprattutto l'Ausland di Walter Schellenberg ma gli alleati vogliono di più vogliono far credere ai tedeschi che lo sbarco avverrà altrove al Palè Calè magari potrebbero attaccare giù a Marsiglia o a Torone o forse potrebbero fare un altro sbarco in Italia le informazioni che vengono diffuse sono dei autentici depistaggi a volte addirittura in contraddizione tra loro servono solo a spargere la cortina fumogena e a non far capire ai tedeschi cosa davvero accadrà nel frattempo Stalin a Est preme continua a premere perché gli alleati aprono il secondo fronte l'armata rossa finora si è comportata piuttosto bene ma ha avuto delle perdite in termini umani ancora prima i materiali paventose Stalin ha bisogno di far respirare l'armata rossa non può sostenere sempre e solo in solitudine il peso del conflitto su terra lo ha già chiesto alla conferenza di Teheran lo ribadisce nella primavera del 44 ebbene gli alleati stavolta sono pronti sono pronti e hanno organizzato una invasione su larga scala e hanno affidato il comando di questa complessa operazione chiamata in codice overlord signor onipotente a un generale molto molto intelligente un uomo che diversi anni più tardi sarà addirittura presidente degli stati di Dwight Eisenhower ma per tutti è Ike è il suo soprannome lo chiamano tutti così ebbene Eisenhower è conscio della capacità di reazione dei tedeschi sa bene che uno scontro su terra da parte di truppe anfibie non adeguatamente sopportate si risolverebbe in un massacro oltre che in un family mail ma sa anche Ike di poter contare l'abbondanza di materiale umano su molto materiale vero e proprio bellico e sull'appoggio di tutti quanti gli alleati il vero ostacolo è la logistica semplice dove gli alleati vogliono attaccare in Normandia non ci sono porti attrezzati per accogliere grandi navi da trasportare il porto più vicino è Cherbourg ma sostanzialmente è una roccaforte è quasi imprendibile dal mare quindi bisognerebbe attaccare la terra ma non si può organizzare uno sbarco anfibio alle spalle immediatamente di Cherbourg andare a prendere Brest sarebbe un suicidio e come detto il passo di Calais con i suoi porti Calais Lucer Le Havre Dieppe non viene neanche considerato si punta alla Normandia Normandia in cui in realtà non ci sarebbero porti attrezzati e quindi come si può fare? come si può ovviare al problema naturale? semplice con un porto artificiale il Malbury Harbor che poi verrà distrutto da un paio di tempesti un porto artificiale è costituito da cassoni di cemento armato da puntili di ferro e da vecchie navi tanto da guerra quanto commerciali che vengono fatte affondare per creare dei francifrutti è un'opera di ingegneria pazzesca e questo fa capire all'interno dell'organizzazione dello sbarco quanto ogni dettaglio venga studiato nei minimi particolari per tutta la primavera del 1240 qua Ike da un rato e Rommel dall'altro si studiano a distanza il primo attende il momento propizio cioè meteo favorevole medio-bassa marea che serve per attaccare mentre il secondo nel suo quartier generale alla Roche-Quillon studia tutti i segnali che sono in arrivo segnali che giungono dall'Inghilterra le trasmissioni radiofoniche in codice non solo ma anche i segnali che arrivano dalla resistenza francese il maquis che si sta organizzando al meglio per accogliere gli alleati il maquis ha un compito preciso durante lo sbarco anzi nelle ore immediatamente precedenti allo sbarco non solo deve accogliere i paracadutisti che verranno lanciati o che planeranno sugli alleati dovrà interrompere le comunicazioni telefoniche distruggere le linee sabotare i ponti stradali e meglio ancora quelli ferroviari tutto quello che può essere sfruttato dai tedeschi per fare acquire informazioni soprattutto truppe fresche supporto di quelle impegnate a contrastare lo sbarco inizialmente però il meteo pare non volerne sapere di avvantaggiare gli alleati vento pioggia tempeste sulla manica no non va bene si deve rinviare rinviare e rinviare e mattino del 5 giugno erwin rommel parte per una licenza va a casa dalla moglie al suo stato maggiore esprime fiducia non attaccheranno dice il feld maresciallo ci sarà bassa marea non possono rischiare di incagliare rommel si dimentica però che la passa marea scopre tanti ostacoli a cominciare dai cavalli di frisia che sono stati posizionati sulle spiagge non sa rommel quanto si stia a sbagliare se ne accorge diverse ore dopo in piena notte è già in Germania ma gli arriva una telefonata è il suo stato maggiore che ha appena arrestato nel giardino del castello di La Roche-Guillaume un paracadutista canadese è l'avanguardia è il segnale che l'invasione sta arrivando l'invasione è cominciata la vera invasione arriva all'alba del 6 giugno appena il sole alveggia e risplede sulla manica un'imponente flotta si presenta davanti alle coste della Normandia per un'ora i grossi calibri delle vecchie corazzate inglesi e americane bombardano la spiaggia accompagnate dai cannoni degli incrociatori l'idea è un po' alla vecchia maniera come durante la prima guerra mondiale un bel bombardamento di artiglieria per preparare lo scontro corpo a foro per sgombrare un po' di ostac il guaio è che in questo caso il bombardamento non sortisce grandi effetti non riesce a distruggere le fortificazioni ricavate nella roccia o realizzate in cemento armato però quel bombardamento ottiene un effetto quello di spaventare i tedeschi che non avevano mai subito un trattamento del genere alle 6 e 30 gli equipaggi dei mezzi da sbarco partono verso la lunga lingua di terra quella spiaggia che diventerà da color sabbia color sague si vedono i cavalli di frisia in ferro e legno si vedono gli ostacoli si vedono i bunker in gran parte è l'inizio di una terribile battaglia un corpo a corpo feroce mortale che vede contrapposti due schieramenti tutti e due determinati uno a liberare l'Europa l'altro a non cedere nemmeno un centimetro a Omaha Beach il settore americano della resistenza tedesca è talmente dura da impegnare i reparti sbarcati sopravvissuti al fuoco delle mitragliatrici per giorni e giorni va meglio da altre parti dove sbarcano gli inglesi e i canadesi lì le teste di ponte si costituiscono nel giro di qualche ora e a poco a poco si normalizzano e si ingrandiscono Rommel torna tutta fretta in Francia cerca di organizzare la resistenza chiede che gli vengano andate le riserve niente da fare tra l'altro Hitler resta convinto che quella della Normandia sia una sorta di manovra diversiva il grosso arriverà dall'altra parte sempre al solito padre Calais non sarà così tra l'altro Fendt Marescialli si comincia anche a litigare For Rommstedt il decano di Fendt Marescialli colui che tra l'altro reciterà l'adorazione funebre qualche mese dopo al funerale di Rommel se la prende proprio con Rommel gli dice che sostanzialmente non ha calcolato in maniera corretta il rischio e le forze in campo Rommel a sua volta se la prende con un altro generale Guy von Schweppenburg uno dei geni delle truppe corazzate che adotta una dottrina di distanziamento della riserva Guy von Schweppenburg a sua volta se la prende con Rommel gli dice che in realtà la riserva andrebbe concentrata in maniera differente Hitler beh Hitler continua a sbraitare contro i suoi generali ma alla fine continua a pensare a lungo termine che la situazione sia sotto controllo lo stesso Goering per giorni e giorni gli racconta wg e gli dice che in realtà gli americani o sono inchiodati e non riescono a muoversi o sono già stati costretti a rimbarcarsi e tornare indietro non è vero lo si vedrà dopo nel frattempo all'interno dell'alto comando dell'esercito tedesco si sta nutrendo una congiura una congiura di cui Rommel è parte anche se marginale è una congiura che dovrebbe cambiare anche questa le sorti del conflitto ma quella congiura nome in codice operazione Valkyria lo abbiamo già visto e potete rivederlo attraverso il video del canale non avrà vieto fine l'esatto contrario del D-Day certo servirà tempo serviranno tanti tantissimi morti servirà il sacrificio di tanti reparti di tanti giovani ma da quelle spiagge insanguinate parte la riconquista dell'Europa una riconquista che si concluderà dieci mesi dopo a Berlino con la fine del Reich millenario e l'apertura di una nuova stagione storica la riconquista Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.